Buongiorno a tutti, siamo allo stand Elkim in Cosmoprof e siamo qui con Luca Sabatini, amministratore delegato Elkim, che ci racconterà le novità di quest'anno. Accanto a lui l'airstylist Enzo Racusa e educator di Elkim. Grazie Gloriana, ho il piacere di presentare al pubblico di estetica una grandissima novità. Si chiama Nature Touch, la prima piastra di ultima generazione interamente fabbricata in Italia. Il nome Nature Touch viene dal fatto che questa piasta è stata realizzata con 11 livelli di temperatura, perché ogni tipo di capello necessita di una caloria diversa per realizzare lisci perfetti o pieghe ondulate, ricci, onde, in perfetto stile naturale con una sola passata. Anche il design è curato nei minimi particolari, abbiamo scelto il colore nero Eros Gold per dare uno strumento alla moda, perché chi crea bellezza all'interno del salone deve utilizzare accessori belli, di impatto. Come potete vedere dal lavoro di Vincenzo, questa piastra raggiunge la temperatura in pochissimi secondi, solo 17 secondi, è cosa importantissima. Grazie alla tecnologia HIT, High and Instant Technology, la mantiene costante, anche dopo più passate sulla ciocca. È una piastra che dà spazio a una bellezza naturale, senza rovinare il capello e quindi creata anche per l'uso quotidiano. Un bellissimo risultato quindi, di cui ringraziamo Luca Sabatini e Enzo Raccusa e vi ringraziamo per la vostra gentilezza. Grazie a voi. Noi ringraziamo Estetica dell'attenzione e salutiamo tutti i vostri ascoltatori e lettori. Grazie. 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 Grazie.